Ufficio faccia, ci sono un sacco di organi in più, di orpelli, la faccia, ma tu pensa alla forza della faccia, l'impatto graffiante che ha la faccia nei confronti di una telecamera, la faccia, si può mangiare la telecamera, può mangiare una macchina da presa, un microfono, la faccia va al di là, l'unica roba che non servono sono i capelli, i capelli se ce li hai bene, se non ce li hai è uguale, serve il naso, perché le facce senza naso non hanno mai sortito, oppure metti che fanno un film, un mondo strano con la gente senza i nasi, li salta fuori, che può essere utile avere uno senza gli occhi, anche quelli sarebbero indispensabili, però se, o chissà, non si può mai dire, il mento si può fare posticcio.